Questa immagine rappresenta il nostro magazzino automatizzato. Fili d'erba è come è stato chiamato questo edificio, disegnato dall'architetto Cenozucchi. Gli abbiamo chiesto di integrare questa architettura nell'ambiente ed è una fabbrica completamente interconnessa. Abbiamo macchinari completamente automatizzati dove produciamo arredi in diversi materiali, in metallo, abbiamo l'iniezione delle materie plastiche, lavoriamo l'alluminio, i tavoli, la produzione dei tavoli, principalmente con macchinari italiani di ultima generazione. Bellezza, tradizione, innovazione sono i nostri punti di forza e la sostenibilità è la base di qualsiasi nostra scelta. Ci dedichiamo al design e per noi l'innovazione non è solamente innovazione del prodotto ma anche l'innovazione della fabbrica e del processo. L'industria 4.0 rappresenta pienamente questo obiettivo. Grazie per la visione!